Il tempo stringe perché è sempre più vicina la data del 30 di settembre, giorno in cui il punto vendita Ipersimplis Maoshan di Pianodaccio di Teramo chiuderà i battenti, lasciando a casa 53 dipendenti. L'Assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori, tenutasi dopo la riunione di giovedì fra il presidente vicario della regione Lolli, il sindaco di Teramo, e i vertici dell'azienda francese alla presenza dei sindacati, ha deciso di indire lo sciopero con due sit-in di protesta per le giornate di martedì e mercoledì prossimi, 25 e 26 settembre, giorni nei quali sono stati fissati due tavoli di trattativa, uno a Roma e l'altro in provincia di Teramo. I lavoratori hanno deciso di rifiutare le proposte di trasferimento elaborate, dicono le sigle sindacali CGL e CISL, secondo criteri che tengono conto di sole e discutibili esigenze aziendali e che, in ogni caso, comporterebbero viaggi dai 110 ai 400 chilometri giornalieri. Trasferimenti che significerebbero avere la vita sconvolta continuano i sindacati per guadagnare in molti casi un salario che non è sufficiente nemmeno a coprire le spese di viaggio, data la presenza di numerosi part-time. Per questo, secondo i sindacati, la ricollocazione è, in realtà, una proposta di impoverimento, un licenziamento mascherato. Nella scorsa riunione del 20 settembre, i dirigenti aziendali presenti hanno preso l'impegno di valutare la richiesta da parte delle organizzazioni sindacali della RSU di rimborso per i trasferimenti e, soprattutto, della disponibilità espressa alle istituzioni a confrontarsi sul destino della licenza commerciale del punto vendita.